Ciao a tutti, io sono Fiorenzo Orlando, sono un medico veterinario specializzato negli animali da laboratorio. Mi occupo da tanti anni di una facility che è rappresentata da uno stabulario di allevamento e di utilizzo presso l'IRCALI, che è un istituto, penso che voi tutti sappiate, a carattere scientifico, che è stato tra i primi istituti a ospitare uno stabulario in tutta Italia. Dunque il mio lavoro consiste una parte manageriale di gestione dell'allevamento e di una parte invece di affiancamento per la cura dell'animale da laboratorio e per il benessere dello stesso del ricercatore medico veterinario che intende fare sperimentazione su piccoli animali da laboratorio, in particolare su topi e ratti. Io ci tengo a dire ai giovani colleghi che per la prima volta si approcciano a quella che è l'attività libero professionale, di continuare l'attività formativa intrapresa all'università perché solo questa può essere la chiave del successo di una professione affermata. Mi sento di dire affermata perché questo aspetto che mi è costato anche sacrificio e ho sempre portato avanti, mi ha garantito poi di arrivare a un successo professionale che ormai posso considerare affermato tra le pubblicazioni scientifiche e il posto che ricopro presso l'istituto di ricerca. E quindi io mi sento di dire di non praticamente demordere e di continuare questa formazione post laurea perché la laurea è solo l'inizio di un percorso professionale lungo che se portato avanti con determinazione garantisce praticamente uno sbocco professionale anche economicamente renumerativo. La cosa importante è che per me fare il medico, che sia medico veterinario specializzato in animali da laboratorio presso un istituto zooprofilattico o qualsiasi cosa deve essere fatta con vocazione. Questa vocazione non è sempre così intuitiva da trovare. Appena laureata mi è stato proposto di fare questo approccio perché cercavano un veterinario che si potesse occupare dell'allevamento di animali da laboratorio e non era tra le mie aspettative. Certo era molto più entusiasmante per me andare a curare cani e gatti che non andare a curare topi e ratti. Non ho detto subito di no, sono andata a vedere, a provare e mi sono entusiasmata perché quest'ambiente si occupava di animali da laboratorio ma con un aspetto scientifico c'erano tanti cervelli, cioè c'erano persone di scienza che erano entusiaste del loro lavoro e che ti garantivano anche una serie di trasmissioni di conoscenze che praticamente nella libera professione con difficoltà si trovavano. Conoscenze legate in qualche modo a dei canali di informazioni scientifica validati e quindi questo approccio metodologico alla medicina veterinaria era innovativo per me. Mi sento di dire di non lasciare le opportunità che arrivano diciamo gratuite ma nello stesso tempo di iniziare un percorso formativo che inizia solo col primo traguardo con la laurea e di non subito affogarsi nel gabinetto veterinario più vicino del libero professionista dove ti insegnano sicuramente perché veder fare e saper fare ecco veder fare saper fare ti insegnano magari le basi della sterilizzazione di un cane di un gatto eccetera però difficilmente ti possono offrire una formazione perché a volte si entra in conflittualità diciamo così perché più persone vengono formate più concorrenti ci sono nella libera professione in realtà nessuno lo dice apertamente ma è così quindi da una parte lì si deve più rubare con gli occhi io invece ho trovato nel mio percorso formativo attraverso un percorso formativo pubblico perché l'istituto di ricerca di carattere scientifico pubblico molte persone che mi hanno formato in un rapporto diretto tra docente e discente quindi io non solo ho avuto una parte teorica ma ho avuto anche una formazione un affiancamento pratico che mi hanno valso diciamo l'aspetto che mi piace di più che è quello che tutti vorrebbero appena laureato di fare il chirurgo in questo ambito io faccio il microchirurgo in tanti ambiti perché affianco il qualche modo il ricercatore che ha l'idea ma non la sa mettere in pratica perché non ha gli strumenti giusti rappresentati dalla conoscenza dell'animale da laboratorio e quindi non sa miniaturizzare il modello quindi nel mio ambito mi occupo anche di garantirgli la diciamo l'espletamento di dell'attività di ricerca attraverso la creazione di un modello animale che sia diciamo attendibile che gli offra la possibilità di fare sperimentazione validata e che allo stesso tempo rispetti anche il benessere dell'animale io mi dovevo raffrontare appena laureata con persone di calibro che avevano tante pubblicazioni un retaggio culturale importante che erano a volte i migliori in quel campo e quindi insomma non volevo sentirmi inferiore ma a me quindi c'era anche un aspetto diciamo di documentazione della conoscenza che di tante ore dedicata allo studio del modello animale oppure allo studio proprio di di quella particolare aspetto di ricerca che quel ricercatore stava affrontando e che teneva a condividere con me per cui non mi volevo far sentire non adeguata e non al livello mai mai dire non so fare e quindi mi sono sempre documentata e la documentazione doveva essere una documentazione scientifica e basata su delle informazioni corrette e io l'ho ricepito ritrovate sempre grazie al fatto che stavo in istituto di ricerca quindi alcune informazioni che sono a pagamento per me erano garantite gratuitamente però accanto a questo c'è il pubmed ci sono diciamo dei canali di informazione scientifica che possono validati che gratuiti per il medico veterinario tra cui pubmed è uno dei più noti e il fatto di con un piccolo un po di scaltrezza di lasciarsi un rapporto con l'università ti garantisce anche l'accesso a Bibliosan che è appunto una diciamo tutte le biblioteche nazionali di informazione scientifica si raccolgono e quindi cooperano nel diciamo nel trasmettersi l'informazione questo questo accesso così facilitato mi ha garantito una formazione che io diciamo adeguata a quello che mi veniva richiesto anche se da poco laureata quindi io mi sento di dire di fare altrettanto cioè di non andare su youtube a cercare le informazioni ma di cercarle mantenendo un retaggio e un con l'università o con l'istituto profilattico insomma un contatto con un ente pubblico che ti possa garantire un accesso a questi motori di informazione scientifica